Buongiorno, l'informazione di oggi, martedì 30 settembre 2014. Iniziamo con le notizie di Cronaca. Le cosche dell'Andrangheta, radicate in Lombardia e smantellate con la maxi operazione infinito tenacia del 2010, avevano creato proficui rapporti con uomini dello Stato, tra cui politici appartenenti alle forze dell'ordine e manager della sanità. Questo quanto si legge nelle motivazioni della sentenza di ieri pomeriggio con cui lo scorso giugno la Corte d'Appello di Milano ha confermato le condanne per gli imputati arrestati 4 anni fa. Il collegio della prima sezione, preseduto da Marta Malacarne, spiega che la Calabria è proprietaria e depositaria del marchio Andrangheta, completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni mescolate a fortissime spinte verso più moderni e ambiziosi progetti di infiltrazioni nella vita economica, amministrativa e politica del Paese. Tra i proficui rapporti che le cosche dell'Andrangheta in Lombardia avrebbero intrattenuto con uomini dello Stato, c'è anche il contributo informativo fornito ai clan da un appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia di Milano. Purtroppo ad oggi rimasto non identificato, lo scrivono i giudici della Corte d'Appello milanese. Ancora cronaca, un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento ha distrutto il negozio di gastronomia La Bottega dei Sapori a Reggio Calabria. Le fiamme sono divampate all'interno del negozio ed hanno distrutto gli arredi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco. L'incendio si è verificato durante la chiusura pomeridiana. Sull'accaduto sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine. Scusiamoci in provincia, sempre cronaca, nell'area boschiva di località Fiorello di Placanica, i carabinieri della locale stazione coadiuvati da quelli di Caulonia e Caulonia Marina, unitamente a quelle della stazione Cacciatori Calabria, dopo una prolungata attività di indagine e di osservazione, nonché lunghi appostamenti durati più giorni, hanno rinvenuto una piantagione di canapa indiana composta da 70 piante alte fino a 3 metri. In particolare all'interno della fitta vegetazione era stata realizzata una piazzola di circa 50 metri quadri servita da un sistema di irrigazione che permetteva di fornire costantemente acqua alle piante rigogliose ormai pronte per il taglio. Qui nei pressi delle alte piante è stato trovato un 25enne del luogo sorpreso con un paio di forbici da potatura in mano che probabilmente avrebbero utilizzato per la potatura delle piante stesse. Una nota che ci giunge da parte del sindaco di Condofuri Marina, Salvatore Mafrici. Con la presente, dice il sindaco, stiamo qui a manifestare la convinta adesione dell'associazione alla mobilitazione in atto per difendere la linea ferroviaria ionica, oggetto di una vera e propria strategia che mira ad impoverire i servizi in modo da disaffezionare i viaggiatori e così giustificare i continui tagli in rapporto alla domanda decrescente. Per questo motivo, dice, parteciperemo in massa alla giornata del 9 ottobre presso Bova Marina, in cui sarà più che mai necessario rilanciare l'iniziativa in difesa delle ferrovie regionali e interregionali, anche attraverso la rivendicazione dei servizi secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e dai regolamenti europei. I sindaci di quest'area considerano essenziale una mobilitazione in tal senso e saranno in prima fila a tutela dei diritti di nutenza ferroviaria già fin troppo penalizzata in questo territorio, a causa dei continui smantellamenti subiti sia per ciò che concerne le stazioni ormai sempre più spogliate ed abbandonate, sia sul profilo delle corse in continua diminuzione sul livello regionale ed interregionale. Dalle urlo di rabbia dei sindaci dell'area grecanica vuole anche essere rivolto al governo nazionale che sul fronte del decreto sblocca Italia, ha nuovamente concentrato le maggiori risorse finanziarie verso le opere infrastrutturali del centro nord Italia piuttosto che per il sud, perdendo così l'ennesima occasione per cercare, magari proprio con queste risorse, il potenziamento del sistema complessivo dei trasporti già fortemente penalizzato in questi anni. Sicurezza stradale, un problema in Calabria sempre che merita grandissima attenzione. Presso il campo sportivo di Polistena, all'interno del parco Juvenilia, è stato inaugurato un monumento per ricordare Ciccio Zerbi, calciatore dilettantistico di Polistena, conosciuto nell'ambiente del calcio come il lupo, scomparso prematuramente per un incidente stradale nel maggio scorso sulla strada statale 682 Ioneo Tirreno. L'evento è stato organizzato dall'associazione Amici del Lupo, nata dopo il tragico evento. Presenti alla manifestazione il presidente della provincia Raffa, i sindaci della Piana e altre autorità. Presente anche alla manifestazione l'associazione culturale Amici di Raffaele Caserta, con tutto il direttivo che ha donato una maglia con la foto di Raffaele. Si è parlato molto della sicurezza stradale evidenziando le varie problematiche presenti sulle nostre strade ed in modo particolare sulla strada statale 682 e sulla strada statale 106, dove purtroppo continuano a verificarsi incidenti stradali spesso, troppo spesso, mortali. Reggio Calabria, la vicenda del campo Coni interviene in una nota. Il presidente regionale del Coni, Mimmo Praticò. Oggi, dice, abbiamo posto un rimedio temporaneo in attesa della complessiva ristrutturazione dell'impianto per restituire alla città un patrimonio pubblico di grande importanza. Lo ha affermato ieri il presidente del Coni Calabria, Mimmo Praticò, in occasione della riapertura del campo scuola di atletica leggera del Rione Modena. Siamo ovviamente soddisfatti, ha aggiunto Praticò, anche se sono dovuti passare ben cinque mesi e nonostante si tratti di una riapertura della struttura sotto forma di parco pubblico, che dunque non potrà essere messa a disposizione della Federazione e delle società per lo svolgimento delle attività tecnico-agonistiche. Tuttavia, era il massimo che si potesse ottenere in un momento come questo, nel quale esistono grandi e gravi difficoltà di ordine economico finanziario nel settore pubblico. Merita una particolare menzione e un ringraziamento la provincia con il suo presidente Raffa, il cui impegno concreto e costante ha consentito di portare le strutture prefabbricate che hanno facilitato la riapertura dell'impianto. Sento, dice ancora Praticò, di dover ringraziare la Commissione straordinaria del Comune e l'assessorato comunale allo sport, ma anche l'ASP numero 5, i cui uffici hanno dimostrato attenzione e buonsenso, nonché la Federazione dell'Atletica Leggera, presieduta a livello regionale da Ignazio Vita e tutte le altre società che in questi mesi hanno affrontato tantissimi problemi, disagi e difficoltà che non sono ancora finite. Adesso la situazione ha ottenuto un primo avvio a soluzione, ma certamente è la strada ancora lunga. Da percorrere per dare a Reggio Calabria un impianto di atletica leggera degno di questo nome e della grande storia e tradizione che questa disciplina vanta in riva allo stretto. In questo senso, aggiunge il presidente del coni regionale, rivolgo un appello ai cittadini che con grande pazienza, senso di civiltà, ma anche caparbietà, hanno spinto per la riapertura del campo e invito la stampa a fare altrettanto affinché, subito dopo le elezioni comunali e regionali, venga affrontato il grave problema dell'impiantistica sportiva in tutta la Calabria. Mi va di salutare questa riapertura, conclude Mimmo Praticò, con un vecchio proverbio cinese. Un viaggio lungo mille miglia comincia con un piccolo passo. Reggio ha compiuto il suo piccolo primo passo. Veniamo allo sport. La regina inizia oggi la settimana del derby. Dopo la giornata di riposo concessa dal tecnico Cozza, riprende oggi la preparazione della regina in vista del derby di domenica prossima 5 ottobre contro il Cosenza. Si riparte dalla consapevolezza di una partita ancora una volta ben giocata, ma che ha evidenziato le solite pecche in fase offensiva e difensiva. Nel corso della settimana si potrà capire se il modulo, se il cambio di modulo è stato un fatto episodico o una scelta che verrà portata avanti. Intanto la Lega Pro ha comunicato che l'incontro Regina Lupa-Roma è stato anticipato al venerdì 17 ottobre con inizio alle ore 19.30. Con questo si conclude l'informazione di oggi. Buon proseguimento di giornata, l'appuntamento come al solito, per domani alle 14.00.